Buongiorno a tutti, per la rubrica Home Reading sto leggendo qualche estratto tratto dal libro Con te senza di te di Osho. Sdolcinature L'amore non è ciò che si intende di solito. L'amore comune non è che è una finzione, dietro di esso si nasconde dell'altro. L'amore autentico è un fenomeno totalmente diverso, non è un pretendere, bensì un condividere, non conoscere e chiedere, ma la gioia del dare. L'amore ordinario prende tanto e troppo, quello autentico non è per nulla avido. L'amore autentico è nutrimento, rafforza la tua anima. L'amore comune non fa che nutrire il tuo ego, non il tuo sé autentico ma quello fittizio. Ricorda, l'irreale nutre sempre ciò che è irreale, irreale ciò che è reale. L'amore non è mai un favore, al contrario, quando qualcuno riceve il tuo amore, tu hai la sensazione di ricevere un favore. L'amore è grato di essere stato ricevuto.